Ministero, alla fine come si può commentare un 1-1 in mezzo alla nebbia che ha reso la vita difficile non solo agli spettatori? Sì, agli spettatori ma anche ai ragazzi, perché comunque sono situazioni, se ci aggiungiamo anche il campo, sicuramente non bello. Era una partita difficile dove bisognava adattarsi, ne è venuta fuori comunque una partita combattuta sotto tanti punti di vista, un punto di vista agonistico. Ripeto, noi temevamo molto l'individualità dell'Arezzo davanti a dei giocatori importanti e da quel punto di vista abbiamo fatto bene. Quindi, ripeto, è stata una partita giocata da entrambe le squadre, da un punto di vista agonistico bene, ne è venuto fuori questo pareggio che va accettato e dobbiamo proseguire il campionato mantenendo questa rabbia, questa attenzione, quindi dobbiamo continuare così. Come se l'aspettava quest'Arezzo che poi tra l'altro sia presentato per la prima volta con un modulo diverso oggi? Sì, fra le altre cose credo che il caso ha voluto che, penso che solo in due partite di campionato ho giocato con questo sistema ed è stato proprio contro di noi, perché mi ricordo che anche l'andata erano reduci da un sistema diverso, poi contro di noi avevano cambiato. Me lo aspettavo perché, appunto, vedendo anche le defezioni che hanno avuto all'ultimo davanti, potevo aspettarmi questa cosa. Però, ripeto, da un punto di vista tattico la partita l'abbiamo affrontata bene, abbiamo limitato bene le loro individualità e quindi ne è venuta fuori una partita equilibrata dove credo che il pareggio sia giusto.